Questo è un modulo che è un vero e proprio laboratorio creativo, un laboratorio creativo artigianale che punta sulla valorizzazione delle vocazioni territoriali. È un'esperienza di forte impatto laboratoriale, proprio finalizzata alla valorizzazione dell'Alto Tirano Cosentino e delle sue peculiarità, l'artigianato come identità locale e culturali. Diversi sono stati gli obiettivi che abbiamo cercato di perseguire con i miei colleghi, con le mie colleghe. Innanzitutto cercare di sensibilizzare con gli alunni, i ragazzi nei confronti della tutela ambientale, cercando di educarli al riciclo creativo piuttosto che allo smaltimento dei rifiuti. Infatti hanno portato da casa l'impossibile, oggetti in disuso, cercando di dare loro una nuova vita, di riportarli a nuova vita attraverso la loro creatività. Abbiamo cercato di intervenire sulla socializzazione, puntando molto attraverso il lavoro cooperativo, il lavoro di gruppo, l'integrazione, di stimolare le loro capacità, le loro competenze che potrebbero essere spendibili anche in altri contesti. In un periodo post-pandemico è stato necessario cercare di ricostruire la loro socializzazione, di stimolare la loro creatività, la loro fantasia, grazie proprio al lavoro manuale, alla produzione artistica di questi splendidi prodotti che state contemplando. È stato anche importante promuovere la solidarietà perché i ragazzi erano consapevoli che il frutto del loro lavoro sarebbe stato devoluto innanzitutto in beneficenza e l'obiettivo, ecco, la finalità hanno cercato di perseguirla da soli perché hanno voluto devolvere il ricavato di questa mostra ai bambini ucraini che hanno trovato dimora e riparo nel nostro comprensorio. Io mi sento ecco di ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi perché hanno creato veramente un clima di grande complicità, di grande serenità e si sono supportati a vicenda. I ragazzi più abili e più portati verso la manualità hanno cercato di coinvolgere quelli un pochino meno dotati di questo estro creativo e hanno cercato di supportarsi reciprocamente nei momenti di difficoltà. È stata un'occasione anche per uscire un po' dai locali scolastici perché in effetti abbiamo fatto le prime uscite sul territorio grazie ai partner di questo modulo. In effetti abbiamo collaborato con il Museo del Cedro, con la Proloco di Scalea, facendo uscite, ripeto, sul territorio e visitando ecco siti di interesse. Abbiamo imparato l'arte dei ceramisti grazie ai laboratori di ceramica di Belvedere Marittimo. Abbiamo visitato anche il Museo della Ceramica di Belvedere Paese. Ecco, grande fascino in maestria sono riusciti i maestri artigiani, i ceramisti ad affascinare i nostri alunni. Ecco, è un'esperienza veramente positiva che ha lasciato dentro di me e dentro sicuramente i ragazzi una grande voglia di rinascita, di riprendere un po' la nostra normalità. Quindi spero che di queste esperienze potremmo essere ancora arricchiti nel prossimo futuro.